om shanti il potere della calma non abbiate fretta ogni cosa ha il suo tempo e nel gustare il tempo guadagnate tempo la fretta rende il tempo corto la calma lo allunga i minuti sono sempre gli stessi e la loro durata non cambia ma il potere della calma rende la mente padrona del tempo e non schiava questo potere evita di correre anche quando non servirebbe e cambia non solo lo stato interiore ma il rapporto con gli altri perché nel sentire la vostra disponibilità loro saranno più cooperativi anche solo mezzo minuto dato a qualcuno con totale attenzione dal cuore vale più di dieci minuti concessi di fretta e con la mente che corre siate maestri del tempo e il tempo sarà a vostra disposizione om shanti